A Castelferretti tutto sa di fango. A poche ore dalla terribile ondata di maltempo lo vediamo appiccicato dappertutto, a partire da quelle strade che l'hanno trasportato ovunque, accompagnandolo fino al luogo intimo per eccellenza, la casa. Intere famiglie si sono riunite per portare fuori dall'abitazione parti della loro vita, complementi d'arredo, libri, elettrodomestici, mobili. La melma ha colorato un quartiere, il più grande di Falconara Marittima, così come l'umore dei cittadini, di un marrone sbiadito. Una tonalità che si addice a chi per ora cerca di salvare il salvabile e con amarezza cerca di riprendersi dallo shock. Qui siamo in via dell'Industria 2, ieri mattina nel giro dei 5 minuti ci siamo trovati due metri d'acqua dentro casa perché siamo molto bassi come vede qui e quindi ancora c'è tanto fango, abbiamo chiesto aiuto, ha detto che arriva, speriamo bene, ci sollieva un po' il sole. Il fango nel suo tragitto non ha guardato in faccia a nessuno e ha colpito anche le realtà produttive della zona. Le vie attorno a via dell'Industria adiacente all'aeroporto contano una serie di aziende che in queste ore fanno la stima degli ingenti danni. Prima però occorre rimuovere il fango che altrimenti rischia di solidificarsi. In una delle aziende del posto dove si lavora l'alluminio l'acqua ha raggiunto il metro d'altezza. Noi non è che abbiamo una condotta che ci abbia una portata tale da poter pulire uno spiazzale un magazzino del genere, quindi è necessario che ci sia un mezzo, una botte, un'autobotte che ci porti l'acqua, almeno quello. Adesso momentaneamente non mi posso esprimere per quantificare i danni, però sono ingenti perché tutto il primo piano dove viene stivato il magazzino ha preso tutto l'acqua, è tutto allagato. Questa zona io l'ho definita come lo scarico del lavandino dove l'acqua confluisce dal centro di Castelferetti e dall'altra zona a sud, confluisce qui, questa è la zona più bassa e diventa il buco finale dove si è attappato.